Il 25 aprile 1874, Louis Leroy, sulla rivista Les Charivaries, descrive con il termine canzonatorio impressionista un'esposizione di opere d'arte curata a Parigi da un gruppo di pittori che fino a quel momento si era definito semplicemente Società Anonima. Claude Monet espone dodici tele a soggetto paesaggistico, tra cui papaveri. L'artista libera definitivamente questa tipologia pittorica dall'obbligo della narrazione, non inserendovi alcuna storia, ma lasciando la natura come unica protagonista e le figure umane a fondersi con essa, come parte di un tutto in grado di sopravvivere sulla tela, anche senza dover raccontare alcunché. Uomini passeggiano in un campo fiorito, in piena armonia con esso, tanto da esserne appena distinguibili. La rivoluzione impressionista è però evidente soprattutto nella tecnica utilizzata da Monet per rendere i suoi paesaggi. Scompare il disegno. L'artista ritrae il suo soggetto accostando i colori l'uno all'altro, senza definire alcun contorno, alcun dettaglio. Gli alberi non hanno foglie. I volti non hanno caratteri fisionomici. Le pennellate non prendono forma sulla tela, ma nell'occhio dell'osservatore, che, grazie alla sua memoria, mescola i colori nella propria mente e legge i soggetti. Non potremmo riconoscere come papaveri quei rapidi e imprecisi segni di colore rosso, se li guardassimo da vicino. Ma li percepiamo e riconosciamo allontanandoci e inserendoli in una visione globale, dove l'impressione diventa forma. Volere dell'artista non è più, quindi, restituire allo sguardo dello spettatore forme realistiche, ma personali percezioni di una natura mutevole e quasi inafferrabile. Tutti discutono della mia arte e pretendono di capire, come se fosse necessario capire, quando è semplicemente necessario amare. Grazie a tutti.